ciao a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale oggi siamo tornati con un nuovo video un video dove vi parleremo di due nuove sponsorizzazioni che abbiamo ottenuto prima di tutto vorrei farvi vedere come avete ben capito che siamo stati sponsorizzati da adidas che ci ha dato l'abbigliamento diciamo della tango squad e in più anche le nuove nemesis 17 plus 360 agility fg nei prossimi giorni comunque usciranno anche l'unboxing di queste scarpe e successivamente anche il test per quanto riguarda invece questo video un video abbastanza breve dove vorremmo anche dire che abbiamo ottenuto una sponsorizzazione anche con mine jersey un sito che vende maglie e roba da calcio nei prossimi giorni dovrebbero arrivarci delle maglie e successivamente faremo un video solamente per questo canale qua per questo sito da sponsorizzare se volete sapere come abbiamo ottenuto la sponsorizzazione adidas oppure qualche dettaglio in più su come abbiamo ottenuto quella con mine jersey o più in generale su come ottenere una sponsorizzazione il nostro indirizzo email è qua sotto mi raccomando scriveteci abbiamo anche messo i profili instagram così che voi possiate tranquillamente scriverci quando volete detto questo il video è finito è stato un video abbastanza breve mi raccomando come ho detto prima se avete da scriverci iscriveteci iscrivetevi anche al canale mettete mi piace e commentate ciao a tutti da marco da alessandro ed è riccardo che ci sta facendo il video ciao a tutti ciao a tutti